Musica Io diciamo in maniera ironica ho scritto tiriamo giù il sipario su questo primo consiglio provinciale democraticamente eletto dai cittadini di questa nostra nuova provincia e unico consiglio provinciale resterà nella storia democraticamente eletto si chiede un bilancio se devo riportare la mia esperienza e mi piace farlo devo dire che quando ci siamo approcciati a questo nostro nuovo ente su cui si è tanto discusso prima della sua nascita circa l'opportunità la convenienza e quant'altro devo dire che siamo entrati quando sono stato eletto nel 2009 in un luogo dove non c'era la sedia su cui sederci tanto per cominciare fisicamente guardiamo la cosa oggi consegniamo una sede molto decorosa oltre che bella per il sito anche perché è storico consegniamo non soltanto quindi una sede fisica ma consegniamo una sede operativa e istituzionale cinque anni sono serviti secondo me a far cimentare ancora di più quella che era un'idea di provincia fortemente voluta da tanti padri fondatori che tutti quanti conosciamo un secolo di guerre e di battaglie per avere questa provincia oggi lasciamo una provincia quindi abbiamo costruito insieme le dieci comunità attraverso questi 30 consiglieri l'aggiunta il presidente lasciamo una eredità che certamente è furiera di tante opere messe in campo sul territorio quindi utilizzo di fondi e di risorse economiche per il territorio parliamo di scuole di strade eccetera cioè tutte quelle che erano le competenze della provincia oltre che dei settori che tengono opere parliamo anche di formazione professionale di socialità di cultura e quant'altro messi in campo lasciamo quindi una consapevolezza di una comunità che vuole e sa stare insieme devo anche dire da presidente del consiglio e da consigliere che è stato un periodo particolare della vita del nostro paese in cui noi abbiamo esercitato questo questo compito istituzionale non ci dimentichiamo ciò che è successo in questi cinque anni siamo passati dalla nascita elezione nascita a un periodo buio ma non perché l'istituzione fosse tale ma più che altro perché si è vissuto un periodo della politica io dico decadente lontana dai cittadini lontana dalle istituzioni la demagogia che si è fatto sulle province non la dimentichiamo l'opinione pubblica che è stata invasa in maniera molto negativa sulla opportunità di mantenere questo livello istituzionale ma dobbiamo dire che le riforme delle istituzioni non dovevano partire dalle province soltanto ma dovevano investire tutti gli apparati e l'organizzazione dello Stato cosa che pare che adesso si voglia fare noi ci auguriamo che così sia ma non possiamo dimenticare che questi cambiamenti poi toccano la vita dei cittadini allora ecco qui veniamo poi alla funzione delle province le province e questa nostra provincia in maniera particolare perché vissuta anche da me certamente ha fatto sentire la sua presenza attraverso i servizi forniti ai cittadini cosa che doveva ed era compito di fare attraverso la presenza anche istituzionale sul territorio e attraverso anche la presenza della politica che chiaramente aveva il suo ruolo nel guidare questo percorso istituzionale io mi auguro per il futuro di questo nostro territorio e quindi anche della nostra città che tutto ciò possa essere preso e portato avanti oltretutto noi non lo faremo nell'ultimo consiglio e questo ci dispiace è in via di predisposizione un bilancio sociale in cui viene appunto riportato tutto quello che è stato la vita amministrativa della nostra provincia sarà successivamente poi divulgata una pubblicazione di cui mi pregerò di farvi omaggio anche di cui ne possiamo parlare anche successivamente in cui noi lasciamo proprio il testamento amministrativo se così possiamo dire ma non è il testamento di morte, chiaro con l'augurio che possa essere preso a spunto di ripartire e continuare a lavorare per il bene di questo territorio e di questi cittadini e io personalmente sono molto onorato anche di aver rappresentato attraverso la presidenza nel Consiglio Provinciale queste dieci città che meritano veramente tanta passione e tanta attenzione da parte dei propri amministratori grazie a tutti